Il Parlamento virtuale è un esperimento, mille cittadini che facciano proposte, che si dividono in commissioni e sono l'interlocutore del governo Ombra. Un governo Ombra e un Parlamento virtuale per dare uno shock a questo centrodestra che può darsi strumenti di democrazia diretta. La lezione di Grillo non si critica solo, si accetta con umiltà e tutto sommato anche noi saremo capaci di una rivoluzione moderata.